Dall'inizio degli anni Ottanta c'è una struttura che aiuta e sostiene le aziende artigiane nel settore del credito, sviluppo artigiano. Operativo in tutto il nord Italia, conta 39.000 imprese associate, delle quali quasi 2.000 in provincia. Il significato di questa inaugurazione è sviluppare ulteriormente un territorio che per noi è estremamente importante e dare una risposta alle 2.000 imprese, soci e di sviluppo artigiano, rispetto alle loro esigenze finanziarie. Il sviluppo artigiano ha 39.000 soci, 2.000 sono nel territorio bellunese e è un'area a noi molto cara su cui intendiamo sviluppare l'attività. È cambiato il modo di fare garanzia, è cambiato il modo di rapportarsi con il sistema bancario, un sistema bancario che si sta evolvendo verso soluzioni che penalizzano la piccola impresa. Noi dobbiamo intervenire su questo lato, intervenendo noi direttamente a finanziare l'impresa e a far capire meglio le esigenze al sistema bancario, garantendone i finanziamenti. I risultati sono che noi nel 2018 abbiamo garantito finanziamenti per 350 milioni, abbiamo in stock all'interno del sviluppo artigiano finanziamenti per 600 milioni, quindi siamo una struttura appetibile per il sistema bancario, ma soprattutto di forte aiuto e di sostegno per l'impresa artigiana. Come si può fare a diventare soci di sviluppo artigiano? Basta venire in queste sedi, nella sede nuova che abbiamo aperto, accogliente, l'iscrizione costa 50 euro e si apre una strada verso una consulenza, possibilità di avere garanzie, essere accompagnati e su questo puntiamo molto allo sviluppo delle nuove imprese. Chiaramente cerchiamo di dare una risposta e ci stiamo riuscendo, visti i risultati di bilancio che abbiamo avuto nel 2018 e gli effetti dei primi mesi, aiutiamo le imprese del territorio a svilupparsi ulteriormente, ma soprattutto vogliamo nuove imprese, nuova imprenditoria, perché questa è la ricchezza del territorio.